affrontare il tema in maniera seria significava raccontare così degli stenti dei rumeni appunto vessati da un mondo cattivo cosa che ho fatto però con un tono un po da commedia all'italiana che è la mia fonte di ispirazione cioè negli anni sessanta c'era veramente la dc che era ancora peggio forse del centrodestra odierno che controllava tutto se volevi fare un film a favore del divorzio in un'italia bigotta come quella degli anni sessanta dovevi farlo comico come divorzio all'italiana di pietro germi che è un film serissimo però fa ridere e noi non premiamo mai le cose che fanno ridere o che comunque sono divertenti devi sempre fare un po piangere perché quando una piange dice che sensibilità che ho quindi è un modo anche di riscattare proprio nulla pensano sempre che il pianto che la tragedia che la maschera tragica sia più nobile della commedia della maschera che ride creano ancora più asti o più odio verso queste persone che non hanno nessuna colpa perché nel momento in cui te li vittimizzano e te ne fanno dei martiri e non te li presentano chi fa dell'extracomunitario del clandestino un martire si comporta in maniera più razzista di quello che non li vuole perché sono tutte persone come noi che vogliono essere trattate come siamo noi gente in grado di proteggersi benissimo da sola hai scritto tu che per lavorare i tuoi romanzi hai bisogno di confusione tu non puoi scrivere a casa perché il silenzio non ti permette di lavorare allora ci vuoi raccontare dove hai concepito ai ducci ai ducci in realtà è nato a casa mia perché quando avevo un blog verso il 2003 ogni tanto raccontavo di quello che succedeva al piano di sopra dove c'erano i rumeni effettivi però erano stati una decina di spunti quando poi ho dovuto scrivere queste puntate per film tv film tv è porto a venezia a milano e lì vicino hanno aperto questo mac cafe pagando due euro un meraviglioso menù di brioche cappuccini potevo stare un intero pomeriggio e sono rimasto lì e quindi ho cominciato a scrivere col computer poi c'era wifi gratis cioè sembrava veramente una piccola isola di civiltà stando seduto in un posto che non sia a casa tua io ormai a casa non riesco più a scrivere perché ci sono troppe distrazioni dalla televisione al frigorifero ai vicini poi più confusione c'è intorno più mi isolo il nostro blog appunto libriblog.com si occupa principalmente di libri di letture di consigli volevamo sapere da te quale sono le tue letture preferite cosa mi avvicinato la lettura non me lo ricordo neanche ricordo il primo libro che ho letto un romanzo rosa dell'editore che oggi non esiste più paolo emilio d'emilio che faceva questi quindicinari con la copertina rosa ed era una bella storia d'amore ambientata a sanremo e l'ho letto tutto avrò avuto 25 6 anni perché ho cominciato a leggere molto presto invece qual è il romanzo che i nostri lettori assolutamente non dovrebbero leggere a me non piace molto leggere romanzi soprattutto quelli che ci sono adesso in libreria perché sono tutti abbastanza uguali un quarantenne in crisi un trentenne in crisi un ventennio i ventenni sono tutti ad amsterdam che devono fare tutte le loro prime esperienze sessuali ad amsterdam c'è tutta una fascia di letteratura gay ad amsterdam come se qui non potessero fare niente ma devono andare fino ad amsterdam e poi c'è la letteratura femminile la letteratura femminile è bellissima perché da una parte c'è il nostro vissuto femminile che io chiamo la scuola mazzantini cioè la scuola mazzantini che io li vieterei con un decreto legge molte donnette purtroppo devo usare questo termine ci cascano e poi c'è invece la letteratura femminile di ispirazione Bridget Jones ormai dopo 15 anni anche grazie e basta per cui non leggo mai questi romanzi ecco quale romanzo vorresti consigliare ai nostri elettori io e i miei autori di riferimento che sono a piero chiara di nobussate anna maria ortese poi fra le cose nuove comunque ogni tanto qualcosa di buono si trova raramente però qualcosa di buono si trova me ne accorgo anche dei manoscritti che mi arrivano accessi or 1881 io collaboro con la casa editrice e già dalla lettera di presentazione capisco cosa va buttato e cosa va tenuto perché quando quando tenevo un dattilo scritto dicendo ha già vinto un premio ed è un dattilo scritto ha fatto un premio condominiale cosa fa uno dei miei scrittori preferiti ma da sempre e non da adesso che è uscito il film di tom ford e christopher isherwood mi sono avvicinato isherwood tantissimi anni fa erano i primi anni 80 perché avevo scoperto che era stato lui a scrivere il racconto da cui era salutato il film cabaret di bob foss adesso ho letto un uomo solo di sempre di isherwood un uomo solo trovo che sia un libro straziante nel senso che veramente ti fa capire un tipo di solitudine che al di là della tendenza sessuale e non è fondamentale che il protagonista sia omosessuale come lo era isherwood è comunque un uomo solo come potrebbe essere una donna sola è un essere umano solo abbandonato dopo la morte del compagno con un'amica unica che è più problematica ha più problemi di lui l'idea di dover stare su questo mondo ancora per poco protagonista di un uomo solo quindi si trova per di più di fronte a questo continuo momento mori che lui invece ha questa classe di giovani studenti è un professore universitario gioventù nel filo degli anni e come ultimo oltraggio alla sua vecchiaia riesce ad avere un rapporto fisico con uno di questi studenti ed è l'ultima cosa che fa nella vita perché poi lo saprete muore durante la notte dopo questo rapporto quindi muore anche bene diciamo muore senza vedere un decadimento estremo di quello che lui è quindi quello è un libro che io veramente consiglio di leggere si legge anche abbastanza in fretta perché non è molto molto lungo come tutti i bei libri è anche un libro breve e se lo leggete anche se avete 20 anni fate bene così vi preparate spiritualmente e come legge il libro tibetano dei morti ecco vi preparate spiritualmente quello che vi aspetta quindi adesso ci vuoi spiegare l'importanza che tu dai a un libraio a un libraio vero rispetto ai commessi dei supermercati dei libri quindi in breve la differenza che c'è tra la grande distribuzione e la piccola distribuzione la libreria è un luogo importantissimo peccato che ormai le libreria sono sempre meno per cui se uno vuol comprare un libro deve per forza andare in uno di questi grandi supermercati dei libri dove purtroppo spessissimo c'è del personale assolutamente incapace poi queste libreria hanno una superficie enorme ma non hanno mai classici hanno prima di tutto appena entrata inciampata in questi mucchi di nuove uscite e poi ci sono tutti gli altri libri quelli di media o bassa vendita che non vengono neanche tirati fuori dalle scatole quando ce lo sblocco credono che il nome non è un nome che tira le lasciano lì dentro se uno lo chiede vanno ad aprire la scatola se non lo chiede la settimana dopo vengono già dati in resa e quindi questi libri non vedono neanche la luce del sole io so per esempio che i miei libri sono presenti in un paio di libreria in liguria dove si rifiutano categoricamente dei veri grandi editori però capirete che libri così hanno la vita difficile manca la figura del libraio che ti aiuti a capire per cui io sono sempre disponibile per fare qualcosa di propedeutico perché mi piace anche comunicare le cose che so e mi piace anche sapere le cose che gli altri sanno per questo mi piace andare su facebook o su questi siti perché comunque lo uso come scambio di informazioni quindi questa è la cultura non bisogna averne paura e bisogna affrontarla cercando di capire perché sia una cultura non perché ti dicono che è difficile ma perché comunque ti aiuta a migliorare tutto lì il segreto adesso una curiosità perché hai scelto di farti intervistare in questo luogo periferico di milano ricordiamo ai nostri ai nostri spettatori che noi stiamo registrando questa intervista da una periferia milanese siamo a grattosoglio perché io sono periferico mi sento periferico sono orgoglioso di essere periferico non abito purtroppo in periferia abito ancora oltre la periferia abito proprio in seconda cintura quindi fuori milano però la periferia mi ha sempre affascinato io ho scritto un libro che ho dedicato alle periferie che era il piccolo isolazionista che per me è stata la cosa più bella che ho fatto in vita mia avrei potuto chiudere lì invece sono andato avanti per cui ho scelto la periferia per questo motivo recentemente siamo stati alla presentazione di un libro uscito per i tipi del saggiatore scritto dalla giornalista Valentina Agostini in cui otto autori raccontano la propria città appunto Londra una delle differenze che c'è tra Londra e l'Italia lì è presente un movimento di scrittori compatto e attivo nel prendere determinate posizioni politiche e sociali mentre qui in Italia lo scrittore viene isolato non fa gruppo e ha più paura a schierarsi ci puoi spiegare il perché di questo fenomeno? è difficile essere in Italia almeno scrittori e fare attività sociale io penso di essere uno scrittore altamente politico anche se non nel senso comune del termine perché comunque prendo una posizione ed è una posizione mia cioè di un atteggiamento umano e non politicizzato verso l'ospite non puoi essere uno scrittore un intellettore in Italia senza essere necessariamente di un certo tipo di sinistra di quella sinistra un po' comoda nata per me con Pasolini per me Pasolini non è mai stato un grande scrittore non è stato un grande regista è stato un grande affabulatore è stato anche uno capace di crearsi dei legami di crearsi comunque anche dei nemici soprattutto che poi dopo la sua morte sono diventati amici e questo atteggiamento purtroppo è stato poi utilizzato da molti giovani scrittori e mettono insieme appunto Pasolini Bukowski tutte queste impressioni che hanno avuto e vengono fuori dei prodotti abbastanza scadenti l'ultima scuola di buoni di bravi che abbiamo avuto in Italia sono stati cannibali e sto parlando del 1995 96 97 dopodiché basta manca il manifesto nessuno fa più un manifesto da non so quanti anni in Italia mancano le scuole mancano mancano i gruppi in Inghilterra puoi scrivere veramente un libro parlando della tua collezione di dischi e nessuno ti offenderà mai sul manifesto dicendo che è un libro frivolo e inutile in Italia no però poi sono gli stessi appunto che rendono degli idoli questi scrittori inglesi perché sono bravissimi per cui in Italia devi fare comunque lo scrittore politico o comunque devi fare lo scrittore scettico non devi mai essere entusiasta di niente non devi entusiasmarti per internet guardate non so Guccini fa una campagna contro internet e applaudono gli stessi che poi insultano quelli che non fanno diffondere la banda larga per cui vedi ancora una volta la contraddizione anzi quella schizofrenia ringraziamo Tommaso Labranca per la piacevole chiacchierata e speriamo che sia stata piacevole anche per lui invitiamo non solo a leggere il suo ultimo romanzo che ricordiamo ai duci uscito per la casa editrice Excelsior 1881 vi invitiamo a leggere gli altri romanzi e a seguirlo sulla rubrica collateral siamo sicuri saranno piacevoli letture ci vediamo alla prossima intervista di libri blog ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti